Così, poi dopo faccio così, tengo i vomiti in questa posizione, così, ci siamo? Se proprio non ce la faccio, faccio la foca, ok, no così se mi fa comodo, se sei comoda la testa, se no ti metti così, però respiri poco e non vedi il paesaggio, vedi un po' a te, come più ti aggrada, perché ti faccio sentire adesso stretching delle gambe, tu quando hai finito la corsa e la passeggiata, io faccio questo, prendo, ti porto via, mi lavoro e ti faccio vedere il lago, eh, ah ah, posso anche fare il superman, si, fare il superman, allora vai, 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 vai,Clouà, wow, 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 sì, neanche Zoe, Zoe, salta addosso, Maia, salta la mamma, dai Maia, Maia dai dentro, su, guarda che vuole venire, dai Maia, vai salta dentro, l'amore, se non era legata ti sarebbe saltata, era già dentro, si anche quando mi metti sulla macacasa cerca di salire, solo che c'è la rete, allora l'ultima, no no rimani, l'ultima operazione che puoi fare, li metti sempre con le ginocchia dentro, e questa, ok, queste due, queste due le piedi, i miei piedi sono in contatto, ok, questa devi essere molto delicata, va bene? A te ti piace di più a pancina? Grazie